Cristiano Ronaldo si sbarazza dell'avversario Quante volte abbiamo visto Cristiano Ronaldo fare gol da quella distanza eppure i difensori erano inspiegabilmente impreparati Che tiro fantastico Fabio, il portiere non ha potuto farci niente C'è poco da fare quando si lasciano indisturbati giocatori del genere poi è normale che ti puniscano Nonostante la distanza non si è fatto pregare e ha scaricato in rete una bordata micidiale un gol d'antologia Una rete che vale da sola il prezzo del biglietto Un siluro che ha sorpreso tutti, portieri comprese